E quanto dice l'ordinanza numero 11 54 34 del 15 novembre 2024, emessa dai due settori reti e sistemi culturali ed edilizia scolastica e patrimonio. La provincia di Salerno dispone la chiusura della biblioteca provinciale di Salerno, ubicata in via Valerio Laspro, fino a nuova disposizione. L'ordinanza sarà attuata a distanza di pochi giorni dalla sua emissione, precisamente dal 18 di questo mese. Tale chiusura si rende necessaria al fine di effettuare accertamenti finalizzati alla verifica delle condizioni di sicurezza, alla luce degli ultimi monitoraggi effettuati dagli organi di vigilanza. ASL Salerno e Vigili del Fuoco, a seguito di un esposto. L'ente provincia, che ha già fatto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'edificio, aveva programmato ulteriori lavori di messa in sicurezza da realizzare, compatibilmente alle risorse disponibili. Questa pianificazione effettuata dalla provincia, tuttavia, non risulta ora compatibile con i tempi di adeguamento normativo stabiliti dagli organi preposti. Inoltre, va ricordato lo sforzo messo in campo dall'ente, attraverso un apposito avviso di mobilità, per avere più risorse umane da destinare proprio all'apertura al pubblico che, dallo scorso 14 ottobre, era finalmente possibile mantenere un'apertura costante e prolungata, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19.30. La biblioteca provinciale di Salerno ora sarà completamente chiusa fino a nuovo ordine.